Nuove acque dovrà rimborsare un cittadino restituendogli così gli importi versati per un servizio inesistente. È indubbiamente un precedente che fa clamore la vittoria di un utente contro la società che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia retina e parte di quella senese. La causa aveva preso avvio dal ricorso presentato dall'utente che pur non essendo servito da alcun impianto di depurazione era sempre stata debitata la quota di tariffa relativa al servizio non dovuta, quota che era stata poi solo parzialmente rimborsata per il periodo successivo al 15 ottobre 2003 mentre veniva negato ogni rimborso per il periodo precedente, più o meno tre anni, per circa 400 euro. Nuove acque devo dire che aveva già perso di fronte al giudice di pace, era ricorsa in appello in tribunale di Arezzo in secondo grado e ha avuto anche torto un'altra volta, quindi è dimostrato che chi aveva diritto alla depurazione che non gli era stato fornito il servizio come circa più di 25 mila utenti di nuove acque ha diritto ad avere un rimborso decennale di 10 anni, non come aveva fatto nuove acque che aveva considerato una prescrizione quinquennale. Il giudice Picardi del tribunale di Arezzo è entrato nel merito e ha giustamente confermato la sentenza di pieno grado quindi in questo momento siamo in attesa che altri cittadini utenti abbiano modo di poter presentare il ricorso al giudice di pace per vedersi riconoscere il diritto ad avere indietro un rimborso per un servizio mai reso. La società ha rimborsato gli utenti non allacciati alla depurazione secondo tempi e modalità stabilite dalle autorità competenti AIT e ARERA precisa nuove acque, valida altresì per tutti i gestori del servizio idrico in Toscana e su tutto il territorio nazionale nuove acque gestisce il servizio idrico nel rispetto rigoroso di quanto viene stabilito dal regolatore per ogni aspetto del servizio stesso. Prendiamo atto, prosegue la nota, della decisione del giudice precisando che la sentenza in questione sarà applicata solo al caso specifico così come avviene per tutti i pronunciamenti della giustizia civile e non alla totalità delle utenze.